Una breve comunicazione per tenere aggiornati i fruitori di questo spazio, dei cambiamenti che voglio portare sul canale. Diciamo che il motto di questo canale è sempre stato un motto squisitamente wittgensteiniano, cioè questo canale non è un manuale di un suo famoso libro. Wittgenstein diceva che questo libro non è un leherbuch, non è un manuale, non è un libro di dottrine. Io non sono un leher, non sono un maestro, non do delle dottrine, ma invece su questo canale ho sempre cercato di prendere posizione, sviluppare un discorso eminentemente teoretico, tutte le strade che ho percorso e che ho proposto nel corso di questi lunghi anni sul canale erano sempre volte alla tematizzazione di una tesi metafisica esaustiva, autonoma, compiuta, il più possibile originale. Ho sempre inteso questo spazio come un laboratorio in cui cerco di fare filosofia e cerco ovviamente un confronto, un'interazione. Lo spazio dei commenti è sempre stato aperto, per lo più con scarsi risultati, però comunque lo spazio dei commenti è sempre stato aperto e rimarrà aperto. Ebbene questa spinta teoretica che ha caratterizzato questo canale andrà via via sfumando, affievolendosi. La mia intenzione è quella di fare meno teoresi e questo per due ragioni fondamentali. La prima, io credo di essere giunto ad un punto soddisfacente. Io sono una persona non dai facili entusiasmi, anzi tutt'altro, però io credo che la proposta teoretica che ho offerto, maturato, che ho proposto anche qui sul canale, in particolare nelle due rubriche, quella che si intitola Introduzione alla filosofia e che consta di 16 parti e poi quella più recente che si intitola Filosofia in breve e che consta di 7 parti. Quindi, ebbene la proposta teoretica che ho sviluppato in queste due rubriche mi sembra soddisfacente. Non vorrei insomma finire a ripetere, a dire sempre le stesse cose. Quello che dovevo dire su un piano teoretico, l'ho detto, chiaramente se ci saranno delle svolte o comunque delle correzioni importanti da fare, riprenderò a fare dei contenuti teoretici, ma per come stanno le cose adesso, io vorrei astenermi dal continuare ad affermare, riaffermare sempre le solite posizioni. Inutile che sto qui a raccontarmi e a raccontarmi sempre le solite storie. C'è poi un'altra ragione per la quale ho deciso di non caricare più, con costanza quantomeno, contributi a sfondo marcatamente teoretico e questa seconda ragione è quella per la quale io tengo delle lezioni, degli incontri, chiamiamoli come vogliamo, privatamente tramite Skype, in cui propongo una storia della logica e della metafisica che ormai è andata consolidandosi e ormai è diventato proprio questa sede privata, lo strumento mediante il quale io cerco di fare teoresi. Vabbè, chiaramente qui colgo l'occasione per dire che chiunque volesse, avesse intenzione di iniziare a seguire questo corso di logica e metafisica, mi contatti, i contatti li lascio sempre in descrizione. Quindi dicevo, vorrei relegare la parte teoretica, che è quella che più mi interessa, a questi incontri privati, per tante ragioni, in queste sedi private c'è più attenzione, c'è più confidenza con l'interlocutore, c'è molta più serietà che non su YouTube, dove la maggior parte delle persone ascolta cinque minuti e poi interviene a sproposito, non c'è mai un contatto diretto personale. Insomma, ritengo sia molto più utile relegare la parte teoretica, che è quella che più mi interessa, su un piano privato, appunto, faccia a faccia. Con questo però non voglio abbandonare il canale, anzi vorrei in qualche modo fargli un po' cambiare fisionomia, appunto. Vorrei utilizzare questo canale d'ora in poi come una sorta di appendice alle lezioni private che tengo. Nelle lezioni private io faccio una storia della logica e della metafisica, mi concentro su questioni, diciamo così, speculative, lasciando invece da parte tutte le questioni più storico-filologiche e pratiche etico-politiche. Quindi cercherò sul canale, da un lato, di concentrarmi su questi aspetti pratici che non tratto invece privatamente con chi decide di seguire privatamente quello che dico, Quindi, da un lato, aspettate di trovare sul canale discorsi più storici e pratici. Ho appena caricato una storia della filosofia patristica, arriverà in futuro una storia della filosofia scolastica, dove, appunto, cerco di indagare il contesto storico, culturale, generale, più che aspetti teoretici. Inoltre, arriverà una storia dell'etica, una storia dell'etica, diciamo, da Socrate, anzi, il primo episodio di questa storia dell'etica l'avevo già caricato un bel po' di tempo fa, una storia, appunto, dell'etica da Socrate fino a Nietzsche. Di modo che, appunto, a fianco a questi nodi teoretici che vado trattando privatamente, ci possa essere anche una... infarinatura delle questioni storico-filologiche di filosofia pratica, che invece privatamente non vado trattando. Inoltre, c'è un secondo aspetto che vorrei sviluppare sul canale e un aspetto che invece fin qui non ho molto sviluppato sul canale, che è la lettura delle fonti. Vorrei cercare in futuro di far parlare molto più le fonti primarie, i testi filosofici scritti dai filosofi. Cioè, probabilmente, la maggior parte dei contenuti che caricherò in futuro sul canale saranno incentrati sulla lettura diretta delle fonti e poi in brevi commenti di ciò che vado leggendo. Però cercherò, appunto, di far parlare le fonti. Io, proprio perché sono stato fino adesso mosso qui sul canale da una vena teoretica, ho cercato di servirmi dei diversi filosofi come pioli di una scala per arrivare a ciò che io volevo proporre. Invece ora vorrei proprio lasciare la parola ai filosofi e l'unico modo per lasciare la parola ai filosofi è leggere ciò che i filosofi hanno scritto. Mi rendo conto che leggere le fonti è faticoso. È faticoso per chi ascolta. È certamente più facile seguire una persona che parla a ruota libera che una persona che legge magari un testo del 800 con dei periodi molto lunghi, eccetera. Però, in fin dei conti, credo sia davvero importante ridare un primato alle fonti. Vedo anche nei commenti spesso e volentieri la gente interviene e cita a sproposito degli autori senza dare la benché minima indicazione bibliografica. Ecco, il mio invito sul canale sarà sempre più probabilmente in futuro quello di andare direttamente alle fonti. E appunto, anzitutto, leggerò le fonti cosa che in realtà già avevo fatto perché nella nella lunga rubrica dedicata alla storia della filosofia così come è letta interpretata da Severino io ho fatto ampio ricorso delle fonti le ho lette e le ho commentate quindi non è una cosa nuova però appunto adesso le fonti andranno in primo piano. queste insomma sono le mie intenzioni spero che questi cambiamenti quest'abbandono della teoresi qui sul canale non crei del dispiacere in qualcuno però credo davvero sia la scelta migliore. Bene grazie per l'attenzione a presto grazie per l'attenzione